buongiorno buongiorno ok a fuoco allora chiedo scusa per la luce mattina ma quasi a milano c'è un tempo di pupù e quindi devo tenere la luce accesa volevo fare il video in sala perché ho la finestra più vicino al tavolo ma devo tenere le tapparelle giù perché stanno montando le impalcature sulla facciata e quindi un casino cioè c'è gente che mi balla sul balcone io odio stare con le tapparelle giù mi dà l'ansia al buio in casa se non sentite diego perché poverino che ho cacciato un attimo l'ipad in mano sta giocando almeno riesco a fare questo video creazioni in spero poco tempo allora vi mostro tu sì non guardate tutti i segni qua questa è la mia schivania no dovete sapere a questi segni mi danno un fastidio cane perché perché prima io l'avevo in casa vecchia in cucina come avevo poco spazio quindi avevo dovuto prendere questo piano corto da 60 centimetri per da mettere in cucina no quindi una volta io ci ho fatto gli gnocchi come una cretina sul piano tagliando e ho fatto tutti i segni una cosa indecente vabbè comunque partiamo subito allora primo paio di orecchini sono questi che sono un tutorial disponibile su youtube della mia amica marta e sono gli orecchini tropicana e allora vediamo si vede poco ragazzi si vede poco per usare le cilli sono uno dei pochi progetti che mi piacciono queste cavolo di cilli non riesco ad usarle però questo progetto devo dire che è veramente veramente carino anzi se avete dei progetti qualche consiglio ditemelo qua sotto qualche nome che poi me lo vado a cercare niente un rivoli da 14 cassonato netted con appunto una decorazione con le eso e le ciglie e piccono da 3 mi piacciono veramente tanto tutto quello che schemi video poi saranno linkati qua sotto non preoccupatevi poi abbiamo allora partiamo con le cose non mie allora da 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 come al solito ok questi sono gli orecchini fiore barocco di margherita fusco sono anni li guardavo sono bellissimi mi sono sempre piaciuti ma non non li avevo mai fatti mi sono convinta un giorno di farli nei miei colori e sono bellissime allora lavorazione un po non complessa qua stavo dicendo mi ha chiamato mio papà gli ho bellamente messo giù in realtà la chiamata e ci sono tanti passaggi però devo dire che il risultato è favoloso questo è il retro lei li fa con le miuchi io sono riuscita tranquillamente anche con le tovo c'è un rivoli da 12 mi pare bicono da 4 super duo e rocaille soprattutto 15 0 anzi solo 15 0 e niente poi abbiamo un altro paio d'orecchini che sono i pascià di margherita e si ciao di carmen russo ciao carmen scusami è uno dei suoi ultimi video con crescent questo è il retro allora un rivoli da 14 mm incastonato a peyote con le rocaille e poi con questa decorazione un po vedete che rimane tridimensionale ma è bellissima mi piace veramente molto con crescent perle da 4 e bicono da 4 anche di questi vi lascio il link qua sotto questi li ho fatti per me perché io ho il giubbino il piumino color diciamo carta da zucchero il mio azzurrino e tante volte esco magari senza dovermi spogliare diego senza dovermi spogliare e quindi stanno bene quindi indifferentemente da come sono vestita sotto questi stanno bene col giubbino non so quando magari porto il bambino all'asile così che rimango vestita posso mettere gli orecchini poi abbiamo ok questo poverino qui da solo gioia scusami sabri è lo schema degli orecchini cupido di sabrina legnani poi ve lo linko qua sotto e gli manca ancora il gemellino lo farò ragione lo devo fare poverino poi abbiamo rimanendo in tema cuori i miei orecchini cupido che sono uno dei miei ultimi tutorial poi ve lo lascio qua sotto con rivoli da 14 si vede proprio male vero buio con un rivoli da 14 cipollotti 4 per 3 mm e rocail 15 0 incastonato rivoli con le delica e anche di questi vi lascio il link sotto nell'info box torno subito vado a vedere diego perché sentivo rumori aria eccomi scusate vabbè vedevo che non riusciva a fare una cosa e se ne era un po arrabbiato tirava i calci al pavimento comunque ecco qua un altro paio di orecchini gli orecchini flow sono il mio progetto c'è il tutorial su youtube adoro questo è il retro sono partita è un rivoli da 12 mm sono partita dall'incastonatura degli orecchini valentine di manuela di udato poi ve li linko sotto entrambi e anche nel mio tutorial io ho chiesto lei il permesso se potevo fare il tutorial con la sua incastonatura ovviamente rimandando al suo video quindi io nel mio tutorial non la mostro vi rimando al suo video e poi niente ci sono i cipollotti vedete 6x8 millimetri quelli grossi che tra l'altro questi tipo effetto marmo io li amo alla follia e se volete chiedermi dove li ho presi li ho presi su ebay ma non ricordo il venditore comunque ce ne sono parecchi pare che ce li abbia anche tinting e niente mi piacciono tantissimo poi questi colori io li amo alla follia sono allora non sono al massimo della leggerezza però sinceramente io li porto senza problemi poi abbiamo gli orecchini anna che hanno fatto un successo che non mi aspettavo proprio e anche questo mio tutorial su youtube li ho fatti in due versioni questa è la prima con perle da 8 mm dietro perle da 4 mm crescent creando questa sorta di decorazione 3d vuota con questo vuoto al centro io nel tutorial dico che consiglio anche di provare a fare il modulo inserendo un rivoli perché lo spazio secondo me c'è in tanti di voi l'hanno fatto sia con rivoli da 14 che da 16 che da 18 quindi viene venire viene e io non l'ho ancora fatto dovrò farlo sicuramente perché mi dia veramente carina poi la versione quella che abbiamo fatto insieme nel tutorial è questa qua verde adesso ve la mostro che mi piace veramente tantissimo e ho usato invece che le perle da 4 sono sempre delle perle una via di mezzo tra delle perle dei mezzi cristalli perché sono tonde ma sfaccettate sempre da 4 mm e li adoro veramente aiuto scusate questo è il retro veramente questi mi piacciono in questo colore cioè mi piacciono tanto anche questi è però questo verde scuro boh al suo fascino poi abbiamo allora questo paio di orecchini adesso non mi ricordo più nomi perché c'è stata la mia fase degli orecchini con i nomi di vampire ieri sto guardando tutta la serie tutte le serie io non l'avevo mai visto sono partita dalla prima adesso quasi finito la quinta non mi dite niente non voglio sapere niente sono quando è morto enzo lì l'amico di demon gli sta facendo i dispetti a tutti come fantasma vabbè c'è marcus che ha preso vabbè comunque non mi dite niente e niente ho fatto questo paio di orecchini questo schema è su etsy poi ve lo linko con le emma beets i triangolini a tre fori e mi piacevano perché ho messo queste gocce sotto sono gocce molto leggere sono in acrilico perché ne ho tante e quindi ne ho potuti usare sei e sono leggerissime anche perché sennò tre gocce sarebbero state molto pesanti e ci sono appunto cipollotti super duo le emma e le rocaille poi abbiamo anche questo paio d'orecchini ha lo schema su etsy e qui ho usato le super duo duet che mi ha regalato graziana di perline gioielli arcos una goccia quella col foro laterale per così che però sono riuscita a montare in modo decente non riesco mai a montarle mi piacciono ma avendo il foro così boh non mi soddisfano mai minus e poi ho usato le super duo normali per richiamare una parte di colore la parte rosa delle due e niente anche di questi vi lascio sono belli piatti anche di questi vi lascio lo schema il link allo schema poi un altro paio d'orecchini con schema su etsy sono questi mi piacciono tantissimo per i colori su questa base sul marrone proprio con questi bicono fucsia sparatissimi e le rocaille iridescenti voi vedete molto verde e sì ci sono i riflessi verde ma in realtà sono più scuro non si notano così tanto che sembra che non c'entrino niente e devo dire che mi mi piacciono anche questi con una perla di quelle le perle tipo magiche tipo le perle magiche prese su ebay e anche di questi vi lascio lo schema il link allo schema sono perfusa poi abbiamo un altro paio d'orecchini di cui vado fierissima mi piacciono da morire eccole qua sono stupendi le adoro probabilmente è stato l'uso dei colori che l'ha resi cioè veramente sono di una fine guardate poi piatti 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 mi danno l'idea di una finezza assurda allora anche di questi c'è lo schema su etsy ho usato rocaille 80 11 0 perle da 3 mm super duo e caposciano a doppio foro da 6 mm goccina in vetro satinato di cadoro davvero mi piacciono tantissimo peccato che non ho granché su questi colori perché li adoro li adoro alla follia mi piacciono un sacco anche di questi vi lascio il link poi abbiamo questo paio d'orecchini di questi trovate il tutorial su youtube io avevo fatto un giochino su facebook avevo chiesto tra questi due quale preferivate come tutorial gratis quale su etsy hanno vinto questi per il tutorial su youtube e sono fatti con super duo cipollotti 4x3 e le demi round della toe sia le 8 0 che le 11 0 non so con cosa potrebbero essere sostituibili anche perché perderebbe un po' vedete il senso del design tra l'altro io ho in programma di fare un video un video differenza appunto con le obitz e le demi round ma chi mi segue su facebook sa che sono esaurita perché non trovo una busta di perline e in quelle perline ci sono le obitz non so dove sono finite arrivo vieni sul letto non so dove sono finite quindi non riesco a fare il video mi sono preparato tutti gli appunti ho studiato aspetta un attimo ho studiato differenze produzioni misure colorazioni e non trovo le obitz e vabbè e niente anche di questi vi lascio il link al tutorial morea vai lì no? stai attento eh poi abbiamo eci Diego solo vedere ma devi fare piano 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 non faccio c'è Diego che ha le manine così mi fa il labbrino tipo solo vedere ti prego piano uno alla volta però Diego su dai su allora poi abbiamo gli orecchini aiuto adesso li prendo gli orecchini calliope ho fatto lo schema per Etsy questi sono la primissima versione che non vi ho mai mostrato che avevo fatto ancora quando ero nella casa vecchia li ho ritrovati mi piacevano veramente tanto materiale semplicissimo perle da 4 mm rocaille 11 e 8 e super duo basta però questo è il retro mi piacevano parecchio allora ho fatto la seconda versione con questi colori e lo schema lo potete trovare su Etsy eccolo qua quale preferite voi? non lo so boh ma è come anch'io oh Diego ho la tossina poi ultimi ma non ultimi abbiamo non ti piace quello? Diego ha detto che schifo abbiamo i miei orecchini i miei orecchini rosone di questo trovate il tutorial su youtube che amo alla follia anche questi hanno avuto tantissimo successo piano Diego era la prima volta che usavo le cheops parfuca e forti forti ti piacciono tre gocce così perché stanno bene Diego sta guardando questi qua e fa muovere tutte le gocce vabbè e niente quindi rivoli da 14 mm incastronato con le delica decorazione con le perle del pappuca quindi Arcos Minos e cheops anche questi risultano veramente piatti come lavorazione come